Aveva cominciato Berlusconi con la promessa di un milione di posti di lavoro. Renzi era andato subito in quella stessa direzione, promettendo anche lui centinaia di migliaia di lavori con il Giobat, che poi sappiamo benissimo come è finita. Adesso il nuovo governo, forte di questo impulso del PIL, ci dice che il lavoro ce n'è per tutti, ce ne sarà così tanto che dovremo lavorare tutti. Però poi piano piano qualcuno fa le pulci a quello che dice il governo e si scopre che non è proprio così. Che cosa si scopre? Giusto Nobile Tasso, è che qui scavando sul famoso rimbalzo del PIL, il rimbalzo ha un segreto. E questo segreto, che veramente in molte avevamo sospettato che esistesse, ce lo ha svelato la fondazione di Vittorio, che è una fondazione di ricerca attidente al mondo del lavoro. Perché questo rimbalzo del PIL del 6,2% dopo che con la pandemia abbiamo perso la ricchezza dell'8,9%? Questa è fondata su un'occupazione, sul recupero dell'occupazione che è di lavoro precario, di lavoro povero, intermittente, con salari bassissimi se non da fame, in quanto appunto lavoro povero. Un aumento di 470 mila unità del 21 fino al terzo trimestre del 21, ancora mancano 200 mila occupati rispetto al pre-pandevia, ma con gli occupati a termine che ormai sono un esercito immenso di 3 milioni di lavoratori. Cioè scopriamo che la ripresa dalla crisi, da pandemia è fondata sul lavoro povero, sul lavoro precario, sui bassi salari, su salarie che non permettono la dignità del lavoro con un solo lavoro. E allora bisogna trovare due dei lavori per arrivare a pagare le bollette che continuamente aumentano. E una precarietà che dilaga, contrariamente a quanto invece il PNRR necessiterebbe per effettuare una transizione ecologica che dovrebbe essere fondata su professionalità altamente qualificate, stabili e che abbiano un futuro. Allora qui si tratta di capire che bisogna invertire la tendenza, sia rispetto alle politiche come è stato detto degli ultimi 30 anni con la grande accentuazione liberista di Renzi, il Job Act, l'abrogazione dell'articolo 18, cioè la perdita dei diritti del lavoro, ma occorre cambiare e ripartire dal 16 dicembre con una stagione che ricomincia all'offensiva per il lavoro, per riacquisire diritti, per rivalutare e dare più valore al lavoro di quanto invece non abbia oggi e di quanto ha perso. Una lotta alla precarietà e su questo è necessario che le organizzazioni sindacali si pongano alla testa di un'avvertenza in difesa del lavoro. Che sia un buon domani per tutte e per tutti.